E' compiuto un'impresa che credo rimarrà negli annali di questo calcio? No, la partita di oggi non fa testo perché noi abbiamo raggiunto l'obiettivo, però devo essere onesto, faccio gli onori a Pomezia perché è venuto qui. Noi abbiamo fatto partita vera dall'inizio perché è giusto che sia così, perché ci troviamo ad essere arbitri di tre squadre che si giocavano nel campionato. Dispiace perché siamo partiti anche molto bene dove abbiamo sfiorato il gol più volte, poi loro sono andati in vantaggio, noi abbiamo avuto l'occasione di riaprirla con la traversa su punizione, abbiamo preso un'altra traversa, però sono contento al di là del risultato che può sembrare pesante. I ragazzi ci hanno veramente provato, come aveva chiesto all'inizio della settimana, fino a che hanno potuto. Se riguardo la carriera che ho fatto mi rispecchio in quello che è stato fatto quest'anno, l'ho detto ai ragazzi i primi giorni che ho iniziato questa avventura, ho detto che i campionati non si vincono e non si perdono all'inizio, quindi vanno costruiti. Io per esperienza i campionati che ho vinto dai giocatori spesso li ho vinti partendo da retrovia senza essere considerato. Ho detto a loro di costruirlo giorno per giorno, così loro mi hanno seguito e siamo riusciti a fare una piccola impresa. Abbiamo visto oggi l'entusiasmo che c'era sugli spalti e noi dobbiamo ripartire da questo, dobbiamo essere orgogliosi di aver portato tutta questa gente, di aver smosso qualcosa in una periferia di Roma. e dovremmo essere bravi a sfruttare proprio questo entusiasmo, sia fuori dal campo che in campo. Abbiamo sudato, abbiamo sempre lavorato sul campo, abbiamo preparato le partite di settimana in settimana e oggi credo che abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato dal 5 agosto. Simo, qual è stato il momento in cui avete capito, vuoi vedere che ce la possiamo fare? Allora, ti dico la verità, a Sora forse abbiamo preso fiducia ai nostri mezzi, però penso che invece a Pomezia è stato il punto esclamativo che abbiamo messo sul campionato e abbiamo nella nostra testa cominciato a capire che potevamo giocarcela tranquillamente con tutti. Grazie a tutti.